Buongiorno, sono la dottoressa Federica Natacci, medico genetista dell'unità di genetica medica di questa fondazione. Oggi sono qui per parlarvi di che cos'è il test del DNA fetale e per darvi le informazioni per fare questo esame presso il nostro ospedale. Innanzitutto precisiamo che il test del DNA fetale è un test di screening che va a valutare la presenza delle principali anomalie cromosomiche nel patrimonio genetico fetale. Pur essendo un test di screening ha una sensibilità molto elevata, può arrivare fino al 99%, per esempio nel caso della sindrome di Down. Il test del DNA fetale consiste nel semplice prelievo, un prelievo venoso normale e si basa sul fatto che la placenta fisiologicamente rilascia delle cellule nel circolo materno e con esse il DNA del feto. Tramite dei software dedicati e delle apparecchiature molto specializzate, il DNA fetale può essere separato dal sangue materno e quindi analizzato per fare appunto l'esame del DNA fetale. Se voi vorrete fare questo esame per poter fare il prelievo e per poter fare l'esame dovreste aver eseguito il test combinato. Successivamente prenotare tramite la nostra segreteria l'appuntamento e il giorno dell'appuntamento, prima del prelievo, incontrerete un medico genetista della nostra unità che insieme a voi raccoglierà la vostra storia personale, familiare, l'anamnesi gravidica in modo tale da essere certi che l'esame del DNA fetale sia quello appropriato per la vostra gravidanza. Successivamente verrà eseguito il prelievo. Il tempo di refertazione è di 10 giorni ma comunque verrete chiamati non appena l'esito sarà disponibile. Presso il nostro ospedale sono possibili due test, il test base e il test esteso. Il test base va a valutare la probabilità che nel fetto sia presente la trisomia 21 associata alla sindrome di Down, la trisomia 18, la trisomia 13 e le anomalie dei cromosomi sessuali. Diciamo che complessivamente queste sono circa il 70% delle possibili anomalie cromosomiche che possono insorgere in una gravidanza. Rispetto alle anomalie dei cromosomi sessuali ci tengo a dirvi che sono delle condizioni che non si associano a disabilità cognitiva o a particolare rischio malformativo, possono essere associati a disturbi della sfera dello sviluppo o a disturbi della fertilità nell'età adulta. Insieme all'analisi delle principali anomalie cromosomiche sarà possibile sapere anche sesso del feto se voi lo vorrete sapere. Il test fornisce due tipi di risultati, può dare un basso rischio o un alto rischio. Il risultato di basso rischio rassicura tutti molto perché la probabilità a quel punto che sia presente una delle anomalie cromosomiche indagate è molto bassa. Per la sindrome di Down addirittura inferiore a 1 su 10.000. Nel caso invece di esito di alto rischio a quel punto saremo più preoccupati, la probabilità che ci sia una di queste anomalie cromosomiche nei tessuti fetali si è alzata, la probabilità esatta, ovvero il valore predittivo positivo, cioè la probabilità che davvero quell'esito di alto rischio corrisponda alla presenza di un'anomalia cromosomica verrà calcolata sulla base di quelle che sono le caratteristiche della donna, del test combinato e l'esito dell'esame. In ogni caso, in esito di alto rischio, la donna viene richiamata dal medico genetista che previo accordo e valutazione con i colleghi del centro di medicina e chirurgia fetale discuterà poi con la donna quelle che sono le procedure diagnostiche più idonee per andare a verificare la presenza o meno dell'anomalia cromosomica nel feto. L'unico modo per fare una diagnosi di anomalia cromosomica, ricordiamo che è quello di eseguire la procedura invasiva, quindi la villocentesi o l'amniocentesi. Di norma viene eseguita l'amniocentesi proprio per il tempo in cui noi abbiamo l'esito, ma comunque in ogni caso l'iter verrà discusso con la donna e valutato singolarmente. Questo è il test base, c'è anche il test esteso. Il test esteso che cos'è? È sostanzialmente il test base con in più la possibilità di andare a ricercare la microdelezione del cromosoma 22, ovvero una piccola perdita di materiale genetico sul braccio lungo del cromosoma 22, che è una delle anomalie genomiche più ricorrenti nella popolazione. Una persona ogni 2000 nasce con questo tipo di condizione. Rispetto a questa condizione diciamo che anche questa è associata a un quadro clinico molto variabile che può andare da quadri pressoché asintomatici, alla presenza di malformazioni d'organo, soprattutto cardiopatie, alla possibile associazione con anomalie dello sviluppo psicomotorio e anomalie del comportamento. Per quanto riguarda il test base, anche per il test esteso i risultati potranno essere due, basso rischio o alto rischio. In caso di basso rischio di nuovo potremo essere rassicurati, in caso di alto rischio la probabilità che realmente la microdelezione del cromosoma 22 è presente nei tessuti fetali non è così alta come per le altre anomalie cromosoma, che è più bassa e appare al 20%. In ogni caso, anche nel caso di esito di alto rischio al test esteso, verrete convocati dal medico genetista e insieme al medico genetista valuterete quello che è l'iterdiagnostico più appropriato per voi. Il test del DNA fetale può essere eseguito in quasi tutte le gravidanze, anche nelle gravidanze gemellari e nelle gravidanze singole da ovodonazione. Ci sono delle specifiche da fare. Nelle gravidanze gemellari monocoriali può essere eseguito sia il test base che il test esteso. Nelle gravidanze gemellari bicoriali e nelle gravidanze singole da ovodonazione può essere eseguito solo il test base con la limitazione che non è possibile andare a verificare le anomalie dei cromosomi sessuali. Sarà però possibile identificare il sesso del nascituro se voi lo vorrete. Abbiamo detto che i possibili risultati del test del DNA fetale sono due, basso rischio e alto rischio. In realtà c'è anche una terza possibilità che capita fortunatamente molto raramente, cioè la possibilità che il test non dia un risultato. Questo succede nel 2% circa dei casi. Nella maggior parte dei casi succede perché la quantità del DNA fetale identificato, la cosiddetta frazione fetale, è troppo bassa. In questi casi verrà proposto un secondo prelievo e solitamente con il secondo prelievo si riesce poi a ottenere il risultato desiderato. Questa situazione è un po' più frequente quando il peso della mamma è alto oppure quando la gravidanza è sorta da fecondazione assistita. Ci sono delle situazioni in cui invece per le caratteristiche tecniche, per le caratteristiche specifiche del DNA di quella particolare gravidanza non è possibile raggiungere un risultato, in quel caso il secondo prelievo non sarà proposto e sarà valutato insieme a voi come procedere per gli ulteriori controlli della gravidanza. Il test del DNA fetale può essere eseguito in quasi tutte le gravidanze ma ci sono delle eccezioni. Queste eccezioni sono quando la mamma ha una malattia oncologica in atto, quando la mamma ha subito in passato un trapianto d'organo o un trapianto di midollo osseo o se ha recentemente effettuato delle trasfusioni di sangue. Un altro caso è in quelle gravidanze che sono partite come gemellari e uno dei due gemelli si è riassorbito o nelle gravidanze gemellari da ovodonazione. Esiste poi un'altra classe particolare che è nelle gravidanze insorte da coppie di genitori che hanno tra di loro una consanguinità, in questo caso il test del DNA fetale potrebbe non risultare informativo e quindi è sconsigliato la sua esecuzione. Ci vediamo comunque in ambulatorio dove potremo rispondere a tutte le vostre domande e chiarire i vostri dubbi. Non mi resta che salutarvi e a presto.